buon pranzo a tutti oggi mercoledì 17 inauguriamo dilettanti in cucina e cosa meglio dei prodotti genuini caseari e l'olio appena appena spremuto praticamente l'olio evo l'olio biologico delle nostre olive ecco vedete il colore molto intenso bello corposo ha una buona resa quasi il 17 per cento e meglio di questo olio da accompagnare poi ai piatti genuini cosa c'è io lo metterò sulle bietole con un po di limone limone fresco della ricotta e meglio di così oggi niente pasta quindi buon appetito a tutti voi di dilettanti in cucina visitatemi sul sito web www.monti.mare.estate pensieri e parole di Teresa Tropiano